Come dai suoi grafici, abbiamo appena visto nel suo intervento, come da quei grafici l'Elba, gli operatori turistici dell'Elba, ma anche gli operatori turistici della Toscana, per esempio, possono trarre un punto per uscire dal loro guscio e fare sistema? Io faccio il teorico e gioco con i modelli, eccetera, e provo con i miei modelli a pensare a situazioni diverse da quelle che esistono. Ora, il problema dell'uscire dal proprio guscio è più un problema mentale che non un problema di modelli o di matematica o cose del genere. Però i modelli aiutano a mostrare che i vantaggi ci sono, che non serve un grandissimo sforzo, cosa che invece magari molti pensano, e che basta veramente poco per riuscire a costruire dei gruppi che siano rappresentati e rappresentabili in maniera efficace, che quindi costruiscano qualcosa di sensato. Quei puntolini rossi così distanziati, che segno sono? I puntolini rossi così distanziati sono tutti beati, isole felici che prima o poi in qualche modo spariranno, perché da quel punto di vista la tendenza è estremamente chiara nel cercare di trovare oggetti in maniera dinamica sulla rete e quindi cercare di identificare delle comunità. Se io non creo una comunità non vengo identificato e questo è abbastanza semplice. Le comunità poi sono in piedi da millenni, sono centinaia e centinaia di anni che sappiamo che se anche oggetti concorrenti stanno insieme funzionano meglio. I mercati nel Medioevo sono nati così, i distretti industriali italiani che sono citati in tutto il mondo sono nati così. La BTO è nata per dare degli strumenti a tutti quelli che gravitano nel mondo del turismo. In questa BTO quali input, quali strumenti vogliamo dare? Magari parlando dei social media, è bene esserci, è bene non esserci, è bene farsi aiutare? In realtà sarebbe bene fare tutto. Non potendo fare tutto, e questo è un altro dei motivi per cui da soli diventa estremamente faticoso riuscire a avere a che fare con strumenti di questo tipo e questo mondo. Non potendo fare tutto ci si mette insieme, si crea una massa critica, si provano a esplorare tutti questi strumenti. Ora qui molti hanno delle idee molto precise, io non ho delle idee molto precise perché ho imparato che in questo mondo esistono pochi punti fissi. È un mondo estremamente dinamico e in estrema evoluzione. Bisogna fare degli esperimenti e bisogna provare. Si fanno degli esperimenti ovviamente a ragion veduta, si fanno degli esperimenti avendo delle basi solide, avendo chiare le idee e su questo si riesce a costruire. Tornando alla metafora che mi è piaciuta molto, quella del mercatino. A me piacciono molto i mercatini, sono attirata in maniera pazzesca dal mercatino. Perché siamo così attirati dal mercatino invece che dalla bancarella sperduta da qualche parte? Il mercatino è esattamente quello. Quando io comincio a avere tanti produttori di oggetti di vario genere e tanta gente che vuole quegli oggetti, è difficile metterli a contatto uno con l'altro. Se ho uno spazio attrezzato, la piazza del mercato, in cui tutti quelli che hanno prodotto oggetti di un certo tipo, che sia frutta e verdura piuttosto che vestiti e cose del genere, sono lì, questo è un polo che attrae tutti i possibili acquirenti o ai possibili curiosi. In un polo del genere, a quel punto sì, vince chi offre il prodotto migliore, eccetera. Ma se io non arrivo sulla piazza del mercato, la gente non sa neanche che esisto. Quindi mi devo far conoscere e devo fare sistema? Altrimenti nessuno mi conosce e venderò solo due mele, per esempio? Sì, o un'arancia o un mandarino. Sì, devo cercare di costruire la piazza del mercato. La piazza del mercato è quella che viene riconosciuta. La gente nel Medioevo non faceva giornate di cammino per andare dal produttore o dall'allevatore. Faceva giornate di cammino per andare al mercato. Lì conosceva tutti quanti e lì poi quella sana concorrenza non eccessiva che fa sì che uno vinca sull'altro. Ma la concorrenza si fa una volta che si siamo messi insieme nella piazza. Perché se non siamo neanche nella piazza è difficile. Ha voluto sottolineare il suo amore per l'isola d'Elba, che è stato anche uno dei territori che lei ha studiato maggiormente. La Toscana anche è stata studiata da alcuni suoi studi. Come siamo messi come regione che si affaccia al mondo del turismo a livello, diciamo, italiano? Come ci piazziamo? Non è un mistero che il turismo in Italia, fatto in maniera sensata, si fa in non molte parti. Sicuramente la faccia centrale Italia, Toscana e l'Emilia Romagna sono le regioni che meglio cercano, con tutti i limiti e con tutte le possibili discussioni che vogliono fare, cercano di sfruttare al massimo le loro risorse e ottengono dei risultati che, e non sono io a dirlo, basta guardare i numeri, sono sicuramente estremamente interessanti. Qui poi ci sono alcune zone che vanno meglio o vanno peggio. La cosa che per esempio in questo momento, secondo me, fa davvero un plus di regioni come queste, magari ce ne aggiungerei un altro paio, è proprio l'aver capito che la promozione, la comunicazione del turismo, eccetera, è qualcosa che deve utilizzare tutti i canali disponibili. E soprattutto il trattare tutti i canali disponibili in maniera armonica, senza pensare che alcuni di questi debbano per forza prevalere sugli altri e così via. Allora da questa armonia poi vengono fuori i risultati.